Non ce l'ha fatta Gabriele Chiaramonti, l'agrigentino di 36 anni è rimasto ferito il 30 agosto scorso in un incidente stradale a Portopallo, Menfi. È morto ieri sera all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato ricoverato la notte dell'incidente. Dopo l'operazione al cervello è rimasto in coma farmacologico per 21 giorni, in condizioni molto gravi, 3% di attività celebrare e funzioni vitali intatte. Un bollettino medico drammatico che ha comunque fatto aggrappare quanti lo amavano alla speranza di un miracolo. In questi giorni gli amici di Gabriele avevano anche organizzato una veglia di preghiera alla chiesa di San Leone. Era un ragazzo molto conosciuto ed amato in città, il compagno di molte serate e giornate spiaggia che lui stesso in compagnia del fratello Marco organizzava. Una persona modesta, per bene, sempre con il sorriso in faccia. Un giovane e bel ragazzo che lascia il vuoto nei cuori di quanti lo hanno incontrato. A Grigento e a Lutto, su Facebook e tra gli smartphone, tutti a chiedere sue notizie, a sperare in una sua ripresa. In tantissimi sono andati a trovarlo al nosocomio palermitano. In molti si sono stretti attorno al fratello Marco e alla madre. Poi ieri la triste notizia della sua perdita ha sconvolto la città. È in corso anche un'indagine da parte della procura di Sciacca sulla dinamica dell'incidente ed il motivo che ha portato la Smart guidata da Gabriele a ribaltarsi più volte nella strada che porta al Lido dei Fiori. Con lui viaggiava anche una ragazza di canicattì di 21 anni che non è in pericolo di vita ma che non sarebbe in grado di dare una versione dell'accaduto.